A stalla vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Eccoci qua ragazzi, ritornati con il nostro carissimo e potentissimo Gohan Super Saiyan Full Power, anche stavolta in compagnia di Krillin e di Yamco. E oggi ragazzi siamo qui precisamente per andare a fare una nuova missione secondaria per il caro Popo che ci sta già aspettando. Il caro Popo ragazzi, da quello che ho capito, vuole andare a costruire dei mobili per il caro Dende, quindi devono fare ancora una volta dei cambiamenti a questo Palazzo del Supremo, ne stanno facendo tantissimi ultimamente. E il caro Popo vuole una mano da Gohan per alcuni materiali e quindi ragazzi che facciamo? Andiamo ad aiutare Popo in quest'impresa. Ma adesso, prima di cominciare, vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio in cui ragazzi, semplicemente, siamo andati a sbloccare, potenziare ed impostare varie mosse speciali e conoscenze sui due personaggi di supporto, Krillin e Yamco. E poi ragazzi, una volta potenziato tutto quanto, siamo andati a fare una bellissima battaglia con i due personaggi di supporto. Quindi ragazzi, se per caso non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando ad andarlo a guardare o verrete terminati. Bene, detto questo, adesso ragazzi concentriamoci su questa missione secondaria di Popo, che dovrebbe essere la prima missione in assoluto che facciamo ragazzi per Mr. Popo. Non mi ricordo che in passato abbiamo già fatto altre missioni per lui, quindi ragazzi, sempre se non mi sto sbagliando, mi ricordo questo. Quindi ragazzi, l'area ovviamente è il santuario di Dio, ci siamo già, il periodo di tempo ragazzi è proprio questo qua. Da arrivano gli androidi, episodio 10 intervallo, appunto, allo stesso periodo di tempo. Quindi dobbiamo necessariamente fare questa missione prima di procedere oltre andando a fare la missione dell'intervallo. Qui il riepilogo ci dice, Mr. Popo vuole che raccogli dei materiali per poter costruire dei mobili perdente. Ok ragazzi, fin qui ci siamo, ottima idea da parte di Mr. Popo, ma quello che voglio capire, dove cavolo vive Dende all'interno del Palazzo del Supremo? Non l'abbiamo ancora visto, quindi è tutto nuovo. E tra l'altro ha già dei mobili Dende e quindi magari si sono rotti o sono troppo vecchi e quindi Popo ne vuole fare degli altri nuovi. Oppure Dende è sprovvisto totalmente di mobili e quindi Popo vuole fare tutto l'arredamento, una roba del genere. Magari Dende sta senza letto e senza tavolo, cioè ragazzi, in una situazione di povertà assoluta, tipo. Non lo so ragazzi, comunque sta di fatto che dobbiamo andare a prendere questi materiali, speriamo che siano facili da prendere. Qui ci dice, attenzione, disponibile dopo aver completato storie secondarie specifiche. E le abbiamo fatte, infatti quella precedente a questa era quella di Dende, che ha fatto poi sbloccare questa qua, si è visto. Ricompense, completamento, 168.013 punti esperienza, che sono abbastanza, 5 medaglie D che ci servono e un peluche di Sharon, quindi un dono. Per quanto riguarda i progressi non è tanta roba ragazzi, abbiamo solamente due quadratini, quindi significa che andremo a fare una roba davvero veloce. Quindi che facciamo ragazzi? Usciamo immediatamente da qua e andiamo subito dal caro Mr. Popo che ci sta aspettando con gli occhi spalancati. Facciamo, parla, vediamo un po' ragazzi cosa ci chiede. M, ah Gohan, neanche salute ragazzi, parte con il suo M, ok, va bene. Cosa c'è? Dice giustamente Mr. Popo, infatti. Beh, ecco, mi chiedevo se andasse tutto bene, ragazzi, ma è un grande Gohan, cioè lui stesso si preoccupa, anche se non sta succedendo niente, di chiedere agli altri se va tutto bene. Questo mi piace di Gohan, eh, anch'io sono un po' così ragazzi. Certo, come sempre, oh, fantastico, però adesso un minimo ci chiede qualcosa. Però mi fa piacere che tu sia qui, ho qualcosa da chiederti. Oh ragazzi, l'ho previsto e l'ha detto, ok che questa è la trama della missione, però l'ho detto poco prima io. Vediamo, davvero? Dice Gohan, sì ragazzi, c'è qualcosa che ci deve chiedere, dei materiali. Vorrei preparare al nuovo dio dei mobili più adatti alla sua statura, ma mi servono i materiali. Ok ragazzi, quindi appunto, diciamo che i mobili vecchi non vanno più bene perché erano quelli del vecchio supremo, che comunque era alto ed era anziano. Adesso Dende è un piccolino, un bambino, quindi devono esserci dei mobili appunto adatti alla sua statura, ci sta. Quindi perfetto, abbiamo capito tutto. I materiali, vediamo un po'. Purtroppo al momento sono piuttosto occupato, in realtà sta libero, sta sempre qua, ma diamola per buona. Potresti recuperarli tu? Certo ragazzi, dobbiamo dire per forza sì. Ok, il custode del guardiano. Questo qui ragazzi è il nome della missione, a livello consigliato 55 ce la facciamo. La descrizione è le ricompense, le abbiamo già lette. Aiutare Mr. Popo? Ma certo ragazzi, guardatelo! Il custode del guardiano con la mano alzata e gli occhi spalancati, una roba assurda. Ok ragazzi, vediamo che altro ci dice. Certo che ti aiuterò, per Dende questo e altro. Grande Gohan, fantastico ragazzi, sapevo avrebbe risposto più o meno in questa maniera. Ok, grazie. Mr. Popo ragazzi, tutto contento? Allora, cosa devo portarti? Esatto ragazzi, veniamo al dunque, vediamo. Mi serve del legno. Ok, semplicemente del legno dovrebbe essere abbastanza facile, credo. Io e il guardiano della terra non possiamo danneggiare alcun essere vivente. Quindi ragazzi, una roba davvero interessante. Sia lui che Dende non possono, diciamo, combattere, far del male appunto degli esseri viventi per prendere questo legno, per prendere qualche materiale. Ecco perché manda Gohan o comunque avrebbe mandato qualche altro personaggio laggiù a prendere questi materiali. Ora è tutto più chiaro. Quindi non possiamo usare legna proveniente da alberi tagliati, quindi oltre a non far male, ad esempio, alle persone, agli animali, neanche alle piante. Giustamente ragazzi, ora si capisce tutto quanto. Quindi neanche gli alberi tagliati. Perfetto. Tuttavia, possiamo servirci dei ramoscelli caduti per via del vento o altre cause naturali. Quindi ragazzi, non possono essere loro a tagliare gli alberi, a far male ad un essere vivente che può essere una pianta, un albero, ma devono essere dei legnetti già caduti naturalmente. Quindi fantastico. Vediamo. Ok, oggetti necessari. Ramoscello. Quindi non si tratta di un legno normale, ma di un ramoscello. E ce ne servono 15. Quindi ragazzi, una roba davvero interessante. Mi piace anche il nome di questo oggetto, ramoscello. Perfetto. Ok, sei sicuro che basteranno dei ramoscelli? Non ti servono anche dei chiodi o altro? Giustamente ragazzi, una domanda legittima. Sono un artigiano esperto. Se ne raccoglierai a sufficienza, non avrò problemi. Fantastico ragazzi, mi sembra ottimo. L'ho già fatto per il dio precedente e per quello prima ancora di lui. Quindi ragazzi, ora si spiega tutto quanto. Questa è una cosa di rito che Popo fa ogni volta. Ogni volta che, appunto, c'è un nuovo Supremo, lo fa ogni volta. Va a cambiare, diciamo, tutti quanti i mobili, l'arredamento, per appunto adattarsi alla statura, alle esigenze del nuovo Supremo. Quindi ragazzi, immaginate quante volte lo avrà fatto. Ogni volta che è cambiato un Supremo, e ne saranno stati comunque tantissimi sulla Terra, ha cambiato appunto tutto l'arredamento. Quindi davvero fantastico almeno saperlo. Ho capito. Allora andrò a cercarli. Grande Gohan, vediamo un po'. Portamene abbastanza e ti ricompenserò. Quindi ragazzi, ovviamente noi non facciamo qualcosa per nulla, per non avere nulla in cambio. Quindi le ricompense comunque ci servono, e già le conosciamo. Tra l'altro, Popo, che cosa sta facendo con quella mano alzata? Sembra che sta facendo tipo un giuramento, così ragazzi. Non lo so, comunque fa ridere. Vediamo. Ok, dai, dai ragazzi, che si passa all'azione. Attenzione, vediamo un po'. Il custode del guardiano raccoglie i ramoscelli usando Gohan. Quindi dobbiamo andare a raccogliere la bellezza di 15 ramoscelli. E meno male, ragazzi, che non ci sono altri oggetti. Sennò avremmo perso molto più tempo e sarebbe stato anche molto più complicato. Tra l'altro, il caro Popo non ci ha dato nessuna indicazione su dove andare a trovare questi ramoscelli. Quindi ragazzi, mi sa che ci dobbiamo scervellare noi a capire dove prendere questi ramoscelli. Da qualche parte staranno nella mappa del mondo e quindi tocca a noi trovarli, farci il giro, perdere tempo sicuramente e poi trovarli. Quindi ragazzi, apriamo la mappa, andiamo alla mappa del mondo. E ragazzi, credo di avere una mezza idea su dove potrei trovare questi ramoscelli. Non ne sono sicuro, ma almeno iniziamo da questo posto, magari li troviamo. Infatti, dovremmo andare in un posto dove c'è della terra arida, dove ci sono appunto, ad esempio, dei rami caduti o comunque degli alberi caduti. Perché Popo ci ha detto che sia lui che Dende non possono far del male alle piante e appunto agli alberi. Quindi qualche ramoscello, ragazzi, potrebbe stare tipo ai piedi di un albero o anche di un albero caduto. Avrebbe più senso perché i ramoscelli si staccano anche dagli alberi caduti. Quindi proviamo, ragazzi, ad esempio, ad andare al villaggio Lucca. Quindi ci clicchiamo e andiamo. Perfetto, ragazzi. Eccoci qua e adesso iniziamo la ricerca. Ragazzi, ho dovuto girare un po', ma credo di aver trovato finalmente ciò che cerchiamo, ovvero i ramoscelli. Abbiamo qui alcuni alberi secchi e, ragazzi, alcuni tronchi caduti, ad esempio. Ci sono dei rami caduti. Quindi che facciamo? Ci avviciniamo. Infatti qui, ragazzi, c'è un oggetto. Chissà che siano questi i ramoscelli. Vediamo un po'. Facciamo appunto raccogli. Vediamo un po'. Ecco qua, ragazzi, il ramoscello 4. Quindi non abbiamo ancora finito. Dobbiamo cercare magari qua attorno. Vediamo qui, ragazzi, abbiamo qualche altro oggetto. C'è questo albero, appunto, secco. No. Quindi dobbiamo spostarci da qualche altra parte. Ok, trovato, ragazzi, un altro albero secco con il ramo secco caduto. E si trova, ragazzi, praticamente sempre alla gola orientale, praticamente in questo punto. Ci sono vari punti. Alcuni non hanno nulla. Ad esempio, non hanno l'oggettino. Alcuni, appunto, hanno l'oggetto. Quindi, vediamo un po', ragazzi, quante ne becchiamo. Ok, ramoscello 2. Stavolta, ragazzi, pochissimo. Quindi ci tocca muoverci un'altra volta e, ragazzi, andare a beccare questi altri luoghi. Perfetto, ho trovato un altro luogo dove si trova, appunto, questo ramo gigante, ragazzi, secco, dove ci sono i ramoscelli. E si trova praticamente qui, in questo punto. Quindi lo raccogliamo subitissimo. Vediamo quante ne prendiamo. Raccogli. Vediamo un po', ragazzi. 2, ramoscello 2. Ce n'è da pochissimo. Che palle. Quindi dobbiamo andare anche negli altri luoghi. Dobbiamo spostarci più volte. Ecco qui, ragazzi, un altro luogo dove c'è, appunto, il legno gigante secco. Vediamo un po'. Questo, ragazzi, è il luogo per farvelo vedere. E quindi raccogliamo questi ramoscelli. Vediamo un po'. Ok, stavolta, ragazzi, 4. Perfetto. Quindi siamo a 12 su 15, almeno, credo, altre due volte. Dobbiamo andare in altri luoghi. E poi, ragazzi, abbiamo finito. Perfetto, ragazzi. Altri ramoscelli per noi. Il posto, ragazzi, è questo qua. Ve lo faccio vedere. Perfetto. Quindi facciamo raccogli, vediamo se siamo fortunati. No, ragazzi, ramoscello 2. Quindi siamo a 14 su 15. Dobbiamo fare un altro passaggio da uno di questi rami giganti. E poi, ragazzi, abbiamo finito. Bene, ecco qua, ragazzi, un altro tronco secco. Vediamo un po'. Si trova qui. E quindi possiamo raccogliere e concludere. Facciamo raccogli, vediamo un po'. Ok, ramoscello 4. Quindi, ragazzi, addirittura adesso ne abbiamo 18 su 15. Consegna i ramoscelli a Mr. Popo usando Gohan. Quindi, appunto, abbiamo completato tranquillamente questa impresa. E, ragazzi, possiamo tornare da Mr. Popo. Apriamo la mappa. Andiamo alla mappa del mondo. E, ragazzi, ovviamente, andiamo al caro Palazzo del Supremo. Al Santuario di Dio. Quindi, ci clicchiamo e andiamo. Ok, ragazzi, eccoci qua, perfetto. In tutto questo sto pensando al fatto che Krillin e Yamco ci hanno solamente seguito in tutta questa piccola avventura. Non hanno neanche combattuto perché non ce n'è stato bisogno. Peccato, sarebbe stato bello. Popo dice, farò tutto ciò che è il mio potere. Perfetto. Riguardo cosa? Vediamo, ragazzi, magari che altro dice. Attenzione. Ok, non dice nient'altro. Perfetto. Quindi farà tutto ciò che è il suo potere. Facciamo, parla. Vediamo un po' se è contento dei materiali. Ok. Vedo che ne hai trovati 15. Ecco, tieni. Cosa ci dà, ragazzi? Già la ricompensa. Vediamo. Grazie infinite. Perfetto. Ok, ragazzi, già storia completata. Razzo oggi. Siamo stati velocissimi. Ok, ricompensa e storia. Ragazzi, Popo ha mantenuto appunto la parola. Ci ha dato subito le ricompense. Intanto sta annuendola dietro. Non so se lo vedete. Ricompensa e storia. 168.013 punti esperienza. 5 medagli edi e un peluche di Shenron. Andiamo. Vediamo un po', ragazzi, se Krillin e Yamco salgono di livello. Ok. Possiamo vedere tra poco, insomma. Oh, hai trovato tutti i ramoscelli che mi servono. Ma come? Lo dice dopo aver completato la storia? Ok, va bene. Grazie infinite. Ecco il tuo premio. Ma come, ragazzi? Ci dà un altro premio dopo averci dato le ricompense? Non sto capendo. È una cosa in più, tipo? Vediamo. Sono felice di esserti stato d'aiuto. Ok. Va bene. Ma non ci ha dato nulla. Sono sicuro che anche Dende ne sarà entusiasta. Grazie ancora, Gohan. Va bene. Ok. Perfetto, ragazzi. Ok. C'erano questi dialoghi finali dopo la missione. Ok, Krillin ha raggiunto il livello 36 e Yamco il livello 31. Ragazzi, me lo aspettavo che sarebbero saliti di livello, dato che l'esperienza è bella alta. Non tanto per Gohan, ma per Krillin e Yamco, che sono ancora più o meno di basso livello, appunto, è tantissima. Quindi dovevano per forza salire di livello. Perfetto. Quindi, ragazzi, oggi siamo andati insieme a completare questa fantastica missione secondaria di Popo, chiamata, appunto, il custode del guardiano. Il caro Popo voleva costruire, appunto, dei nuovi mobili adatti a Dende e, appunto, non aveva i materiali. Quindi ha mandato Gohan a prendere questi 15 ramoscelli. Ragazzi, siamo andati con Gohan e anche Krillin e Yamco alla gola orientale. Lì, ragazzi, sapevo più o meno che c'erano questi alberi secchi. Me lo ricordavo. E, infatti, ragazzi, abbiamo trovato parecchi riscontri in vari punti della gola orientale. Diciamo che è stato abbastanza semplice trovarli. Ma, ragazzi, la rottura di scatole è stato il fatto che dovevamo spostarci da una parte all'altra per, appunto, prendere tutti i 15 ramoscelli che ci servivano. Infatti, quando li raccoglievamo non erano mai abbastanza. Non riuscivamo ad averne abbastanza per arrivare subito a 15. Quando li raccoglievamo ce ne venivano dati 2, 3, 4. Quindi abbiamo dovuto spostarci, come avete visto, molte volte per poterli beccare tutti quanti. E, alla fine, li abbiamo anche superati. Siamo arrivati, tipo, a 18 ramoscelli. Così facendo, ragazzi, almeno adesso sappiamo dove andare a prendere i ramoscelli prossimamente, se capiterà in prossime missioni. Sia storia che storia secondaria. Alla fine, siamo tornati al Palazzo del Supremo e abbiamo dato a Popo tutti i 15 ramoscelli. Ed è rimasto davvero tanto contento, tant'è che ci ha dato le varie ricompense. Poi, ragazzi, non so cos'è successo, ma credo che quei dialoghi finali dovessero essere prima della storia completata. E non dopo. Infatti ci ha detto che ci dava un premio, ma in realtà le ricompense ce le aveva già date. Infatti non ci ha dato nessun altro oggetto. Quindi forse un bug, o forse, diciamo, erano piazzati male questi dialoghi. Dovevano essere piazzati prima di storia completata. Molto probabilmente è così. Ovviamente, mi raccomando, fatemi sapere la vostra su tutto questo episodio. Fatemi sapere se questa missione secondaria di Popo vi è piaciuta, vi è sembrata simpatica. Fatemi sapere se l'avete fatta anche voi, se vi è sembrata facile o difficile per il discorso di andare a raccogliere i ramoscelli. E fatemi sapere anche se magari questo video vi è stato anche d'aiuto per trovare le varie posizioni in cui si trovano i ramoscelli. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito. Se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò. Grazie a tutti per aver guardato il video.